e mi è arrivato questa lì e vedete un po' no allora in questo momento il direttore non ci sta dice semplicemente che siete stato licenziato fa 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 una bella politica generale che dopo il doppio e di come devi sistemare questa situazione perché servono i soldi hai capito ma tu c'è qui che il cartomante c'è un giaccio meglio da tutto perché sono tutte stronzate ma tu sei un pezzo di merda io ho deciso voglio lasciare mio marito sacrificio rinunce ma manca i cani mi stanno a sentire ma i figli sono sempre figli per me si sembrano proprio me ne va avete una vita lunga e voi cambate assai grazie a tutti